Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, finalmente il bacio tanto atteso. Dopo mesi di voci e smentite, la coppia si è lasciata andare alla passione in pubblico, paparazzati da un noto settimanale. Finora avevano mantenuto il riservo per non danneggiare i figli avuti da precedenti relazioni. Ma ora tutto è cambiato. A pochi giorni dall'inizio di Ballando con le stelle, dove entrambi saranno protagonisti, potrebbe trattarsi di una mossa studiata d'arte. Il settimanale Chi aveva già paparazzato la coppia in diverse occasioni, ma questa volta è stato il primo bacio a catturare l'attenzione di tutti. Dopo una cena romantica, Sonia e Angelo si sono abbandonati alla passione in modo quasi sfacciato. Dopo mesi di definizioni vaghe, ora è ufficiale. Sono una coppia. Entrambi parteciperanno alla nuova stagione di Ballando con le stelle, ma non come coppia. Sonia ballerà con Carlo Aloia, mentre Angelo sarà il partner di Federica Pellegrini. Non c'è da preoccuparsi per la nuotatrice, felicemente sposata e madre di una bambina, ma c'è chi ipotizza che dietro il bacio pubblico ci sia una strategia ben precisa, per creare hype in vista del debutto televisivo, o semplicemente per vivere liberamente il loro amore davanti alle telecamere. Dopotutto, nascondere una passione del genere sarebbe stato difficile. La coppia ha deciso di non nascondersi più e di vivere appieno la loro relazione, anche di fronte al pubblico. La passione è scoppiata e ora tu tutti sono pronti a seguirli.